Ciao a tutti ragazzi e ragazze da Youtube Nicolivorno1 Vi voglio dire una cosa Che la prima volta Con lo Youtube famoso che sarebbe Fanaptom La prima volta Ho sbagliato io Lo ammetto, la prima volta ho sbagliato io Ma dopo Quando io e lui si è fatto video qui a Livorno Che lui venne qui a Livorno Si fece video insieme Io gli chiesi il suo numero Che lui mi dette il suo numero E si parlava in privato Io e lui Adesso è uscito Adesso Due mesi fa se non mi sbaglio Ha iniziato a dire Che io gli mandavo troppi messaggi Che non è assolutamente vero Ho pure le prove Sul mio numero Che lui mi mandava messaggi Io gli mandavo messaggi Si parlava, si era amici Sapete perché dico Si era amici? Perché in macchina Quando si era in macchina con lui Io, mio nipote Si parlava con lui E gli chiesi se voleva essere mio amico E voleva chiudere la questione Di essere un haters Perché lui era mio haters Io ero su haters Si discuteva E lui accettò di essere mio amico E io gli promisi Che un giorno Quando potrei Un giorno Quando potevo Lo andavo a trovare A lui Però non ho avuto il tempo Di andarlo a trovare Perché non ho ancora i soldi Per andare Nei posti Perché i posti Dovete sapere Che devi avere soldi Per andare in qualche posto E devi avere soldi Per dormire in albergo Perché senza soldi Non dormi in albergo Dormi o sotto ponti O su una panchina Capito? Perciò Aspettavo di avere soldi E andarlo a trovare Un giorno Però non gli avevo detto Che l'andavo a trovare subito Un giorno Qualsiasi L'andavo a trovare Quando era il momento Però vabbè Lui mi ha attaccato Dopo un anno Di amicizia Dopo un anno Di amicizia Mi ha attaccato E mi ha detto Che io mando Troppi messaggi In live Con 8000 persone E io l'ho detto Scusami Ma perché dovevi fare Questa cosa? Perché non mi hai Contattato un privato Visto che hai Il mio numero Perché non mi hai Contattato un privato? No Lui ha preferito Dirlo A 8000 persone Così Tutti quelli I suoi fan Mi sono venuti A attaccare a me Mi sono venuti A attaccare a me A dire che io Mando troppi messaggi Che io faccio Quello 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 Quell'altro Cioè Questa persona Questa persona Fanapton Mi ha accusato Di un'infinità Di cose sbagliate Però il problema Non è solo lui Perché ci sono Altri youtuber Ci sono un'infinità Di youtuber Un'infinità Di persone Che lavorano Sui social E sono Uguali a lui Purtroppo Ci sono Un'infinità Di persone Sui social Che fanno Uguale A lui Purtroppo Nei social C'è La persona Che lavora Modino E la persona Che non lavora Modino Esiste Questa cosa E poi Comunque Vabbè Lui mi ha Attaccato Questa persona Fanapton Mi ha attaccato Dopo un anno E ha detto Tutte cose Sbagliate Su di me Ha detto Che io Sono stato In carcere E' vero Sono stato In carcere Sono stato In questura Sono stato A domiciliari Ma non dico Il perché E lui Non lo sa Neanche Perché Però Va a dire A giro Cose Su di me Che non sono Vere Quindi anche Diffamazione Fa anche Però io Non è che Lo vada A denunciare Se lui Fa diffamazione A fare i suoi Puole dire Quello che Li pare Io Nicoli Vorno Uno Ho dato Il consenso A tutto Il mondo Di farmi I video Sempre all'infinito E dire Quello che Li pare Però State tranquilli Potete dire Tutto quello Che vi Pare Su di me E poi Volevo dire Che Quando Andate Dietro A uno Youtuber O uno Che lavora Nei social Dovete vedere Se quella Persona È brava O non Brava Lo so Che lui È la vostra Infanzia Però Non vuol dire Che se lui È la vostra Infanzia Inizia Nel 2024 A prendere In giro Le persone Cioè Ha dato Ha detto Nel suo video Che le ragazze Non devono Giocare Alla play E chi Sei te Per dirlo Allora Io ti dico Una cosa Fanapton I giochi I giochi Di tutto il mondo I giochi Di tutto il mondo Sono fatti Per tutti Capito Sia per maschi Sia per femmine Sia per uomini E sia per donne Uomini E donne Possano giocare A tutti i giochi A tutti i giochi Di tutto il mondo Non sei te A dire Quello Che devono Fare gli altri Comunque Ragazzi Ritorniamo A discorso Fanapton Parla ancora Di me E Io Sinceramente Non è che Sono stanco Di questa cosa Per me Lui può parlare Quanto vuole Di me Però Che mi viene Live Mi dice Che io Sono 104 Che io Sono disabile Che io Sono di là Di giù E di su Allora Io è vero Ho fatto Dei video Dove ho detto Che io Sono disabile Ho fatto Dei video Dove ho detto Che io Ho la 104 Ma l'ho fatto Per gli haters Perché mi Mi fanno ridere Quando loro Ci credono Io non ho Nel 104 E non sono Neanche disabile Io l'ho fatto Tutta Tutto solamente Per loro Per gli haters A me mi piace Quando loro Cascano in trappola Perché loro Gli haters Hanno la trappola Capito Se gli dici Che ti hai La 104 Loro continuano A dirti così A me mi piace Perché Non è un problema Io Io Continuerò sempre A essere uno Youtuber Io continuerò Sempre a lavorare In tutti i social Sempre all'infinito E poi Voglio dire una cosa Non ascoltate Una persona Uno youtuber O uno che lavora Nei social E vi dice Chiudete il canale Fate quello Quell'altro Voi continuate Perché Allora vi spiego Ragazzi Chiunque lavora Nei social Chiunque volesse Lavorare Nei social Su youtube O su altri social Io vi consiglio A tutti Ragazzi e ragazze Uomini e donne Vi consiglio A tutti Di aprire un canale Su youtube O su qualsiasi social E lavorare Sempre all'infinito Non state Ad ascoltare Quello che vi dicano Gli altri Perché troverete Molte persone Che vi diranno Che voi non siete Bravi a giocare Che voi non siete Bravi a fare Il vostro lavoro Che dovete Chiudere il canale E tante altre cose Quelli si chiamano Haters Poi ci sono anche Gli youtuber Haters Anche le persone Che lavorano Nei social Haters Che sono più famosi Di voi E vi vogliano Schiacciare Ma voi Siate forti E continuate Sempre il lavoro Sempre Perché io Non mollerò Mai Io sono uno Youtuber Io sono uno Che lavora Nei social Per sempre All'infinito E io Sarò Sempre più Forte E andrò Avanti Sempre all'infinito Non ascoltate Nessuno Mi raccomando E comunque A te Fanapton Ti dico una cosa Allora Ti dico una cosa Io Se te parli A me non mi interessa Più quel che dici Parla Di quel che vuoi Quando mi vuoi Nominare Nominami Direttamente live Così vengo Direttamente Da te Però Falli i video Dove parli di me Falli i video Ovunque Postali Comunque Io Dico un'altra cosa Io Fana Non ti rispondo più Perché non Non sei una persona Di cui Dovrei Rispondere E Contattami Quando Quando vuoi Tanto il mio numero Ce l'hai Se hai bisogno Di Che io venga live Contattami E Ci vedremo Live Comunque Continua a venire live Da me A insultarmi A dire quello che vuoi Tanto A me non mi interessa Di quel che dici A me non mi interessa Di quello che dite voi Haters Di tutto il mondo Chiaro E poi ragazzi Haters di tutto il mondo Fatemi i video Sempre all'infinito Comunque Postateli ovunque Mi raccomando E comunque Io Ragazzi Vi saluto Vi do la buona giornata E spero che questo video Vi sia piaciuto Lasciate un like E un commento Qua sotto Ditemi la vostra opinione Lo youtuber Famoso Fanapton Ragazzi Mi ha attaccato Perché lui Non sta più Facendo visualizzazioni Nel suo canale Non sta più Ne facendo visualizzazioni Ne like Ne commenti E nient'altro Lui purtroppo E calato Di spettatori Di like Commenti Visualizzazioni E tutto Ma non vuol dire Che se cali Devi attaccare Una persona Cioè Purtroppo Gli youtuber E persone Che lavorano Nei social Stampa all'infinito Attaccano Gli altri Le persone Più piccole O vanno Ad attaccare Youtuber O persone Che lavorano Nei social Più piccoli E questa cosa Non è giusta Io ce la penso Così Che se uno Sbaglia Va bene Va bene Potete E potete Fargli video Contro Parla di contro E tutto Ma se una persona Siete amici Da tanto tempo Perché io E lo youtuber Famoso Fanapton Si parlava Su whatsapp E si era amici E Si è parlato Di tutto De più E del meno Purtroppo Lui mi ha attaccato Perché Purtroppo Sta calando Di qualsiasi Spettatore Like Commenti Tutto Questa cosa È una cosa Sbagliata Nei confronti Di tutti Io La penso Così Che bisogna Aiutarsi Persone Che lavorano Ne social Di tutto Il mondo Sempre all'infinito E persone Che lavorano Su youtube Sempre all'infinito In qualsiasi Social Bisogna Aiutarsi Sempre All'infinito Quello È quel Che penso Io E comunque Io spero Che vi sia Piaciuto il video Lasciate un like E un commento E condividetelo Ciao a tutti Da Nicoli Voli